siamo pronti per partire e quindi io darei la parola a Valentina grazie Andola e grazie a voi grazie Mariangela buonasera a tutte e tutti vi diamo il benvenuto a questo convegno che come diceva Mariangela un festival un convegno alternativo dedicato al tema dell'acqua come bene comune e appunto come come anticipava Mariangela e come molte di voi sapranno in queste giornate dal 21 al 23 settembre si sta svolgendo nelle sale del lingotto un festival dell'acqua presso il quale convengono smat utili italia e altri esimi rappresentanti del mondo politico e tecnico il simbolo del nostro festival invece è la carpa pesce d'acqua dolce che risale le correnti una leggenda cinese diffusa si poi con successo anche in Giappone narra che una carpa risali tutto il corso del fiume giallo e che una volta superata la porta del dragone si trasformò in drago creatura purissima e immortale per la tradizione orientale la carpa rappresenta scusate rappresenta per noi il simbolo di una resistenza alle correnti liberiste che promuovono un insostenibile modello di gestione delle risorse naturali in particolare come abbiamo denunciato a più riprese nel corso di questo anno per quanto riguarda il mio collettivo manitoana ma per decenni per quanto riguarda il il comitato e il forum per l'acqua pubblica la gestione pubblica della risorsa idrica sancita per volontà referendaria nel 2011 è ben lontana dall'essere applicata e rispettata dai gestori locali fatte salve dir poche virtuose eccezioni che possiamo contare a malapena solidità di una mano l'idea che la gestione dell'acqua il cui accesso è universalmente riconosciuto quale diritto inalienabile di ogni essere umano possa diventare un campo di accumulazione e di speculazione e per noi inammissibile altrettanto inaccettabile anche l'attuale situazione delle infrastrutture idriche in italia che come abbiamo letto in questi mesi di diffusione di dati allarmanti che appunto sono stati resi pubblici anche da smat perdono un quantitativo d'acqua quasi paragonabile a quello che raggiunge effettivamente rubinetti questo nella media italiana nel caso di torino il dato si aggira intorno al 34 per cento e l'acqua dispersa dalle tubature danneggiate non rientra in circolo nell'ecosistema come vorrebbero farci credere politici sofisti ma non altrettanto sofisticati abbiamo sentito questa eh giustificazione in in commissione a luglio parlando appunto insieme al al comitato acqua pubblica il problema si presenta letteralmente alla fonte cioè in quei bacini siano eh sorgenti superficiali o falde profonde che ogni anno vengono stressati più del dovuto e che continuano a esaurirsi contro eh sotto i nostri occhi la crisi climatica e la crisi idrica non ci stanno davanti ci troviamo già nel bel mezzo del gorgo per questo eh sosteniamo e continuiamo a ripetere in tutte le piazze in tutti gli spazi che attraversiamo come collettivi e come movimenti non possiamo più adottare una politica attendista non possiamo più di fronte alla siccità aspettare la pioggia abbandonandoci all'impotenza frustrata di titoli di giornale dalle tinte apocalittiche poi nel momento in cui le piagge arrivano tirare un sospiro di sollievo come se il pericolo fosse ancora una volta sventato occorrono e questo è quello che appunto eh ribadiamo come movimenti riflessione studio e azione collettiva dobbiamo impiegare gli utili eh che queste aziende eh fanno sulla pelle anche dei cittadini eh per una ristrutturazione radicale delle tubature esistenti per contenere lo spreco idrico e per diminuire lo sfruttamento delle fonti come come collettivo eh ci siamo interrogati su cosa sia un bene comune come l'acqua in questo caso al di là del suo significato più strettamente giuridico a quale comunità allude l'aggettivo di comune di nuovo la carpa ci viene incontro da correnti lontane questi pesci infatti vennero apprezzati in Giappone per la loro capacità di ripulire i fondali delle risaie e dei fiumi la carpa come innumerevoli altri animali e altre specie vegetali in differenti ambienti si prende cura dell'ecosistema ripulisce restituisce questo bene inestimabile che l'acqua necessaria alla vita della pianta di riso degli altri pesci di tutte le specie le specie animali e vegetali parlare di un bene comune come l'acqua quindi nel contesto della crisi climatica e della crisi idrica ci impone di riconsiderare il concetto stesso di comunità e di comune l'acqua alla quale attingiamo senza misura per mantenere in vita con parti industriali ormai non sostenibili e acqua che sottraiamo a un intero ecosistema del quale noi stessi facciamo parte per queste ragioni pensiamo e pretendiamo che la gestione di un bene sempre più prezioso come l'acqua debba innanzitutto essere di esclusivo appannaggio del pubblico e in secondo luogo che debba essere inserita in un discorso in un sistema di pratiche capaci di far fronte in maniera intelligente e sostenibile alla siccità alla crisi climatica e alle minacce che gravano sulla biodiversità e su tutti gli esseri viventi quindi ci auguriamo che a partire da questa sera e da tutte le iniziative che abbiamo portato avanti in maniera congiunte che continueremo a portare avanti possa nascere un forte movimento controcorrente capace di compiere quel salto oltre la porta apparentemente blindata di un sistema ingiusto e non sostenibile grazie